Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Condizioni di variabilità nella giornata di domenica sulla Liguria, con qualche possibile fenomeno sparso sull'estremo ponente e sull'estremo levante Ligure, invece qualche schiarita in più. Vediamo ora nel dettaglio appunto la provincia d'Imperia, splendere al sole nel corso della giornata di domenica, con qualche nuvola di tanto in tanto ma con il basso rischio di conseguenze e con massime comprese tra i 18 e 21 gradi. Sulla provincia di Savone invece maggiore variabilità con cieli a tratti nuvolosi e qualche possibile occasionale piovasco. Anche sulla provincia di Genova il tempo sarà variabile, con cieli in prevalenza grigi e qualche possibile nota instabile. Sul Tigulio condizioni di variabilità nella giornata di domenica con cieli infatti nuvolosi e qualche possibile goccia di pioggia. Sullo spezzino invece cieli sereni o parzialmente nuvolosi nel corso della giornata di domenica con il basso rischio di conseguenze. Al più solo qualche debole goccia di pioggia sui settori interni. Ci attende un avvio della settimana con tempo ancora variabile sulla Liguria. Cieli infatti a tratti nuvolosi con qualche possibile nota instabile. Le massime saranno ancora intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione è debole, con Marligure calmo, poco mosso, mosso solo a largo. Dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.